La prima volta a Manfredonia un'iniziativa di Cooking Experience, un ristorante a casa con lo chef amatoriale Rosa D'Ambrosio. Oggi il prodotto per eccellenza della serata è la seppia, nostro prodotto per eccellenza. Chi ha deciso di aderire a questo progetto? Principalmente per un fatto di passione che ho per la cucina. Poi avevo pensato di poter fare qualche cosa, però non avevo i contatti giusti, non sapevo come fare. E poi un giorno mi ha contattato la signorina Giovanna Armillotta e quindi da lì abbiamo cominciato questa cosa che mi è piaciuta tantissimo. Quali sono le specialità da voi proposte? Principalmente prodotti del territorio, quindi prodotti nostri o addirittura, come dico sempre, pure prodotti dell'orto. Perché è un piccolo orto, quindi che produco anche qualcosa per conto mio. Quindi quando ci sono i periodi a chilometro zero. Esatto. E comunque in ogni caso prodotti sempre nostri. Quindi della zona, ecco come questo periodo. Non trattati. Non trattati assolutamente. Quindi alla base c'è sempre questo, valorizzare il prodotto nostro e quello buono. Da dove nasce la tua passione per la cucina che poi ti ha portato ad avvicinarti a questo progetto e a praticarlo? Principalmente è stata un'esigenza perché comunque mi sono sposata giovanissima e quindi ho dovuto imparare per forza di cose, ovviamente da mia madre e dai suoi insegnamenti. E poi man mano che i figli sono cresciuti ho approfondito un po' questa passione. Quindi adesso la faccio con molta più professionalità, diciamo così. Perché preferire la cooking experience al tradizionale ristorante? Perché c'è una relazione con le persone diversa e nel ristorante c'è il cameriere, rimane un rapporto un po' più distaccato. Invece qui partecipano, a parte partecipano attivamente tutte le persone che vengono a mangiare. Quindi comunque provano a fare la pasta, provano a mettere la pasta nel piatto, friggono come oggi la salvia. Si rende partecipi. Si rende partecipi di tutto e quindi si vive a pieno diciamo la serata. Ok, perfetto, grazie. Cooking Experience, un progetto del tour operator Slowland. Che cosa può dirci dei vostri progetti e di questo in particolare? Slowland è un tour operator online di incoming per la Puglia e per il Gargano. Ed è un portale in cui abbiamo raccolto tutta una serie di esperienze, tour e servizi turistici esclusivi da poter fare in Puglia e nel Gargano. Come per esempio la Cooking Experience in casa di una local friend, nella formula dell'home restaurant. Per cui diamo la possibilità al turista viaggiatore di vivere almeno per un giorno come se fosse un vero e proprio cittadino del posto. Quindi di partecipare, di entrare in casa di una persona del posto, mettere le mani in pasta, partecipare attivamente alla preparazione della cena, delle ricette e di quindi sperimentare in pieno il nostro territorio. Il nostro portale quindi è una piattaforma online in cui è possibile acquistare questa come la Cooking Experience ed altre esperienze come walking tour, mini crociere del Gargano in caicco, escursioni in natura con caciocavallo show in masseria e tante altre esperienze direttamente online. Quindi rendiamo reperibili sul web tutta una serie di escursioni, di servizi che il turista può acquistare direttamente sulla nostra piattaforma. Perfetto, grazie.